L'Odi è veramente inqualificabile da tutti i punti di vista. Detto questo, sottostimato di un danno che le imprese quantificano in non meno 10 miliardi di euro perché a Bruxelles si rendono conto che c'è un problema. Messi in mano la tua... perché il governo pregiudizialmente ostile alla crescita, allo sviluppo e alle grandi opere. Per accompagnare il paese fuori dal pantano e accompagnare il paese al voto. Lui ha seguito i protocolli nazionali, nel senso che se nel suo ufficio, così come accade in ospedale, in caserma dei vigili del fuoco, non so se qualcuno adesso vuole aprire un'inchiesta anche a carico di chi la muova. Senatore, buongiorno. Elisa Santarelli, prima pagina. E poi un'altra domanda, ci sono dei segnali positivi da parte del governo, secondo lei potrà essere applicata?